Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti, sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qui con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Oggi parliamo dell'incredibile storia di Elisa McVeigh. È una storia che mi avete consigliato in molti, quindi sicuramente molti di voi la conosceranno già, ma se non ne avete mai sentito parlare, preparatevi, prendete uno snack, prendete da bere perché sarà un viaggio. Oh, scusate Salami è ancora qua con noi, vuole stare qua. Elisa McVeigh ha 17 anni quando si svolge questa storia e vive a Tampa in Florida e questa è una delle ragazze, delle persone più forti di cui io abbia mai sentito parlare e capirete il perché molto presto. Elisa non aveva avuto una vita facile, anzi, la sua infanzia era stata costellata da eventi traumatici perché da quando aveva soli due anni aveva iniziato a ricevere violenze da tutti gli adulti che incontrava sul suo cammino. Tutti gli adulti che avrebbero dovuto invece proteggerla durante la sua infanzia. Era nata in una famiglia molto povera, sua madre era un'alcolizzata e faceva abitualmente uso di sostanze. Di conseguenza molto presto Elisa viene tolta dalla sua famiglia, dagli assistenti sociali e viene messa in un orfanotrofio. Fino all'età di 14 anni Elisa salta da una famiglia affidataria all'altra e al compimento dei suoi 14 anni Elisa viene affidata a sua nonna che viveva insieme al suo compagno. Ma purtroppo neanche quello sarà un ambiente familiare felice per Elisa, anzi tutto il contrario. E questo perché il fidanzato della nonna inizia molto in fretta ad approfittarsi di lei e inizia a farle violenza sia fisica che psicologica. E questo accadeva praticamente tutti i giorni. Quest'uomo aveva l'abitudine di fare violenza su Elisa e mentre lo faceva le teneva una pistola puntata alla tempia in modo che Elisa non potesse né muoversi né urlare. E non è chiaro ma pare che la nonna sapesse di queste violenze. E da quello che ho letto neanche lei era proprio una grande persona perché a sua volta aveva l'abitudine di picchiare Elisa molto spesso. Inoltre l'aveva anche costretta a prendere il cognome del suo fidanzato e la costringeva a chiamare quest'uomo papà e a trattarlo come se fosse suo padre. Quindi insomma un ambiente familiare a dir poco tossico. Elisa fa questa vita per anni. All'età di 17 anni Elisa va al liceo e ha anche un lavoretto part time. Un po' per mettere da parte dei soldi ma soprattutto per stare il più tempo possibile fuori da quella casa. Elisa lavorava in una catena americana che fa ciambelle che si chiama Crispy Creme e che distava da casa sua solo 10 minuti. Il 3 novembre del 1984 Elisa aveva chiesto al lavoro di poter fare il doppio turno. Quindi quel giorno avrebbe lavorato dall'apertura del ristorante diciamo alla chiusura. E quel giorno per Elisa non era un giorno come un altro. Quel giorno era diverso perché Elisa aveva preso una decisione. Aveva deciso che una volta terminata la giornata lavorativa avrebbe chiuso il ristorante, sarebbe tornata a casa e si sarebbe tolta la vita. Elisa era stanca di vivere in quel modo. Aveva conosciuto nella sua vita solo dolore, letteralmente da quando aveva memoria. La gente le aveva solo ed esclusivamente fatto del male. Doveva sopportare le botte di sua nonna, le violenze del fidanzato, della nonna. Era stanca e aveva deciso di farla finita e aveva deciso che quella era la sera giusta. Aveva anche già scritto una lettera che spiegava tutti i motivi della sua decisione. Ma quello che succede dopo ha dell'incredibile. Elisa quel giorno chiude il ristorante verso le 2 di notte e prende la sua bicicletta con cui andava e tornava da lavoro tutti i giorni. Inizia a pedalare verso casa e mentre pedala, Elisa si sente in pace, forse per la prima volta nella sua vita. Consapevole che di lì a poco tutta la sua sofferenza avrebbe avuto fine, si sente finalmente libera e in controllo della sua vita, del suo destino. Mentre pedala, passa a fianco ad una chiesa e nota che nel parcheggio di questa chiesa c'era una macchina. C'era parcheggiata una macchina marrone e Elisa nota questa macchina perché appunto era molto tardi, in giro non c'era nessuno, quindi si ferma proprio a pensare chissà che cavolo ci fa una macchina in mezzo a questo parcheggio di questa chiesa. Quindi mentre pedala, si gira per dare un'ultima occhiata a questa strana macchina, quando all'improvviso qualcosa la colpisce in testa e la fa cadere dalla sua bici. Stava succedendo tutto molto in fretta, Elisa è confusa, ma appena riceve questa botta in testa sente anche un uomo urlarle addosso e puntarle una pistola alla testa. Sentiva la canna della pistola che premeva sulla sua tempia, ma questa cosa non la spaventava più di tanto, perché purtroppo quella era una sensazione troppo familiare per lei. Il fidanzato di sua nonna le puntava una pistola alla tempia tutti i santi giorni, ma quest'uomo non era il fidanzato di sua nonna, era qualcun altro. Era uno sconosciuto che l'aveva presa di sorpresa e le stava urlando di stare zitta e di salire sulla sua macchina, che era proprio quella strana macchina marrone parcheggiata davanti a quella chiesa. Elisa non capisce che cosa stia succedendo, ma esegue gli ordini e sale su questa macchina. L'uomo allora le ordina di togliersi tutti i vestiti e di praticargli del s*** orale, dicendole che se fosse stata brava, allora non l'avrebbe uccisa. E proprio in quel momento a Lisa viene fuori quell'istinto di sopravvivenza, quello che nessuno di noi sa di avere finché non viene messo alla prova. Lisa fino a quel momento era convinta di voler morire, e se fosse arrivata a casa in quei dieci minuti lo avrebbe sicuramente fatto, si sarebbe tolta la vita. Ma in quel preciso momento un uomo con tutta l'arroganza del mondo stava cercando di strappargliela la vita nel modo peggiore possibile e a Lisa viene su un'ondata di rabbia, come se fossero venuti fuori tutti gli anni di ingiustizie e di violenze che altri uomini arroganti l'avevano costretta a subire. Ed è proprio in quel momento che Lisa decide di dire basta. Nessuno aveva il diritto di derubarla della sua vita. Decide che da quel momento in poi avrebbe fatto tutto quello che era necessario per sopravvivere. E quell'uomo ignorava il fatto che Lisa non fosse un adolescente come tutte le altre. Lisa era già una sopravvissuta, era molto più forte e furba di un adolescente normale. Inoltre anche Lisa era una fan di tutti i programmi true crime o comunque programmi polizieschi, quindi sapeva benissimo che se voleva sopravvivere, se voleva che qualcuno la trovasse, doveva stare molto attenta ad ogni piccolo dettaglio. L'uomo a quel punto le lega i polsi e le benda gli occhi legandole un foulard intorno alla testa. Lisa, mentre quest'uomo le lega questo foulard, fa una cosa che trovo estremamente furba, a me non sarebbe mai venuto in mente, però praticamente cerca di gonfiare la sua faccia il più possibile in modo che una volta legato questo foulard, quando lei avrebbe di nuovo rilassato il viso, il foulard sarebbe stato leggermente più largo. E in questo modo lei riesce effettivamente a vedere un po', a spostare un po' questo foulard e a vedere più o meno dove stessero andando. Inizia quindi a memorizzare più dettagli possibili anche all'interno della macchina. I rumori che faceva, il fatto che il cambio fosse in pelle, il fatto che ci fossero dei tappetini rossi in questa macchina è che sul cruscotto ci fosse scritta la parola Magnum. E per ricordarsi questa parola ha fatto l'associazione col programma Magnum PI, che era un programma che lei guardava, e quindi per ricordarsi quella parola che probabilmente era il modello della macchina, ha fatto questa associazione. Lisa cerca anche di toccare il sedile il più possibile per lasciare impronte digitali. E riesce addirittura a togliersi il Tampax che aveva, perché aveva il ciclo in quei giorni, riesce a toglierlo e a buttarlo sotto il sedile, in modo da lasciare una prova del suo DNA. C'è ragazzi, altri livelli. Dopo una quindicina di minuti la macchina si ferma. Elisa riesce a intravedere una boscaglia intorno alla macchina, dal finestrino, e pensa, ok, ci siamo, questo pazzo mi ha portata in un bosco, in modo da approfittare di me e poi uccidermi. Quindi quando l'uomo la fa scendere da questa macchina, lei istintivamente inizia a camminare verso il bosco. Mentre invece l'uomo le dice, dove stai andando? Andiamo da quest'altra parte. Lisa è sempre bendata, quindi l'uomo la tiene per un braccio e le fa salire delle scale. E Lisa, in tutto ciò, conta ogni passo, conta ogni gradino. Pensando già a quando sarebbe scappata, a quanti gradini avrebbe dovuto fare, l'uomo la porta dentro una casa, che era casa sua. Lisa sente subito odore di vernice e le sembra una casa nuova, pulita. L'uomo la porta in bagno, la slega, le toglie la benda dagli occhi, ma la costringe a tenere gli occhi chiusi. La mette nella doccia e inizia a lavarla. E Lisa nota che quest'uomo sembrava vivere all'interno di una sua fantasia, perché la stava lavando e la stava trattando come se fosse la sua fidanzata. La accarezzava a tratti come se fossero in una relazione. A questo punto Lisa è totalmente confusa e si chiede cosa stava facendo quell'uomo, che cosa voleva da lei. Si prende coraggio e glielo chiede. E lui risponde che non era nulla di personale, non era una cosa che stava facendo solo a lei, ma lo aveva fatto a tante altre ragazze. E il motivo è che era stato lasciato di recente. Cioè una ragazza l'aveva lasciato, le aveva spezzato il cuore, quindi lui stava facendo queste cose ad altre ragazze, come per ripicca. E quando l'uomo dice questa cosa a Lisa, lei immediatamente sa di poter usare questa informazione a suo vantaggio. Sa di poter sfruttare questo dettaglio per manipolare quest'uomo. E subito dopo questo mostro spinge Lisa sul pavimento e le fa violenza in un modo brutale. Ma come vi ho già detto, amici, Lisa era abituata a questo genere di cose. Aveva subito violenze brutali praticamente ogni giorno per gli ultimi tre anni. Purtroppo, per fortuna, in questi casi, sapeva benissimo come, diciamo, proteggersi. Sapeva che se avesse provato a resistere, sarebbe stata picchiata ancora più forte. O peggio. Quindi, come aveva fatto tutti gli altri giorni degli ultimi tre anni, era stata lì, ferma. Si era rifugiata in un pensiero felice, aveva aspettato che questo orrore, che questa violenza terminasse. Quando questo mostro finisce, Lisa gli dice che doveva andare in bagno e che non sarebbe riuscita a fare pipì se lui fosse stato lì a guardarla. Quindi l'uomo accetta di lasciarla da sola, esce dal bagno e chiude la porta. E immediatamente Lisa inizia di nuovo a toccare qualsiasi superficie del bagno per lasciare più impronte digitali possibili. Quando esce dal bagno, l'uomo la prende e la mette nel letto vicino a lui e le dice di dormire, ma ricordando sempre che aveva una pistola con sé e quindi l'avverte di non fare cavolate. Lisa si sdraia quindi a fianco all'uomo e i suoi pensieri vanno ai mille all'ora. Pensa che forse quello era il momento giusto per provare a scappare. Poi però inizia a pensare che forse quello era tutto un test. Forse l'uomo stava fingendo di dormire. Lisa è consapevole che se avesse provato a scappare e non ci fosse riuscita, sarebbe morta. Non aveva neanche un minimo dubbio che quell'uomo non avrebbe esitato a ucciderla. Il mattino dopo, quest'uomo le fa di nuovo violenza e Lisa perde addirittura il conto delle volte che quest'uomo le aveva fatto violenza. In tutti i modi possibili, immaginabili. E dopo inizia a parlarle, a farle domande. Le chiede come erano le sue compagne di classe. Le chiede di descrivergli i loro corpi, come erano fatte. E Lisa continua con il suo piano. Ha capito che quest'uomo ha palesemente un problema con le donne. Le aveva detto di essere appena stato lasciato, quindi Lisa lo tratta come sapeva che avrebbe voluto essere trattato. Lo tratta con rispetto, lo tratta come se gli volesse bene. Tutto questo ovviamente per guadagnarsi la sua fiducia. pensava, infatti, che una volta ottenuta la sua fiducia sarebbe stato molto più facile scappare. Ad un certo punto, l'uomo la prende, la porta sul divano e accende il televisore. E stavano trasmettendo il telegiornale proprio in quel momento, quando Lisa vede una sua foto alla TV. C'era infatti al telegiornale un servizio sulla sua scomparsa. La polizia aveva trovato la sua bici per terra, tutti i suoi effetti personali sparsi per strada. E la stavano, appunto, cercando in quel momento e vedere questa cosa fa scoppiare in lacrime Lisa. Perché è come se avesse realizzato effettivamente quello che stava succedendo. Aveva realizzato che fosse tutto reale, era stata rapita. E a quel punto perde proprio il controllo, inizia ad agitarsi, inizia ad urlare. E l'uomo a quel punto prende la pistola, gliela punta contro e le dice se continui a piangere mi costringi ad ucciderti. Quindi Lisa si costringe a calmarsi e a riprendere il controllo delle sue azioni. E quando lo fa, l'uomo di nuovo la prende, la porta in camera da letto e le fa di nuovo violenza. Ancora e ancora e ancora. Verso le 4 del mattino, l'uomo inizia a dire a Lisa di non sapere che cosa fare di lei. Lisa sentiva che era come se le stesse chiedendo un consiglio. Cioè, cosa devo fare con te? Lei allora, pensando sempre a quelle poche informazioni che conosceva su quest'uomo, gli risponde Beh, potrei far finta di essere la tua fidanzata. Farò tutto quello che vuoi, mi prenderò cura di te. Nessuno deve sapere come ci siamo conosciuti davvero. So che vuoi fare ingelosire la ragazza che ti ha lasciato? Ti aiuterò io, Lisa gli dice. A quel punto però, l'uomo inizia ad innervosirsi. Inizia a camminare avanti e indietro per la stanza dicendo a Lisa che non era possibile, che non poteva tenerla lì in casa sua. Subito dopo, le ordina di vestirsi e di salire sulla sua macchina. Lisa a questo punto è terrorizzata perché non capisce che cosa stia succedendo. Esegue gli ordini e come se fosse uno zombie col pilota automatico sale in macchina. L'uomo le chiede a quel punto dove abitasse. Lei gli risponde dandogli l'indirizzo di casa sua e l'uomo inizia a guidare. Dopo 15 minuti ferma la macchina di fronte ad una banca e scende per appunto prelevare dei soldi e lascia Lisa in macchina da sola. Di nuovo Lisa non capisce se quello fosse un test o cosa. Aveva effettivamente di nuovo l'opportunità di scappare ma non sapeva bene dove fosse andato l'uomo perché lui l'aveva di nuovo bendata. Quindi pensa che forse quello era un modo per vedere se Lisa fosse scappata oppure no per vedere se Lisa intendesse davvero quello che aveva detto poco prima che voleva essere la sua fidanzata quindi magari quello era un modo per vedere se si poteva effettivamente fidare di lei. Lisa è paralizzata dalla paura e prima di decidere se provare a scappare oppure no l'uomo risale in macchina e riparte. Dopo un po' Lisa che aveva di nuovo fatto quel trucchetto con il foulard sugli occhi quindi riusciva ad intravedere più o meno riesce a appunto vedere delle strade familiari e si rende conto che si trovavano effettivamente nella zona di casa sua gli dice che se avesse fatto un'inversione a U e avesse girato in quella strada sarebbe arrivato all'indirizzo che lei gli aveva fornito poco fa e con sua grande sorpresa l'uomo lo fa fa inversione a U ferma la macchina la braccia le dice che gli dispiace e che è sicuro che lei supererà questa cosa a quel punto la fa scendere dalla macchina e le dice che se fosse rimasta lì ferma per 5 minuti allora l'avrebbe lasciata vivere e subito dopo se ne va Lisa si trova a due passi da casa sua ferma in mezzo alla strada e non capisce di nuovo che cosa stesse succedendo si chiede perché perché non l'avesse uccisa perché l'avesse lasciata lì forse le stava puntando una pistola da lontano o magari avrebbe cambiato idea di lì a breve sarebbe tornato indietro a prenderla e questo pensiero il pensiero che potesse tornare indietro a prenderla le mette una paura atroce e a quel punto inizia a correre verso casa sua una volta arrivata a casa e a quel punto era scomparsa da 26 ore spiega a sua nonna e al fidanzato della nonna che cosa le era successo le spiega che era stata rapita da un uomo che l'aveva praticamente guittata per le precedenti 26 ore e di tutta risposta la nonna invece di crederle di prenderla a portarla dalla polizia la riempie di botte la nonna e il fidanzato non le credono pensano che si sia inventata tutto e che invece se ne sia andata a zonzo con i suoi amici ma dopo un po' fortunatamente si rendono conto persino loro che forse Lisa stava dicendo la verità e finalmente decidono di andare alla polizia Lisa racconta tutto alle autorità tutti i dettagli che aveva memorizzato il nome della macchina magnumi tappetini rossi gli dice delle impronte digitali che aveva lasciato ovunque e la polizia è molto interessata a questa storia e al profilo di quest'uomo questo perché da sei mesi a quella parte proprio a Tampa c'erano state diverse sparizioni tutte ragazze tutte intorno all'età di Lisa tutte però erano state ritrovate morte la polizia proprio in quel periodo stava indagando infatti su quello che ormai erano certi fosse un serial killer ed erano certi che fosse la stessa persona che aveva rapito Lisa Lisa era sopravvissuta ad un serial killer come già detto sei mesi prima diverse ragazze avevano iniziato a scomparire il 27 marzo era stato ritrovato il corpo di una ragazza di 20 anni di nome Artis Wick faceva la prostituta ed era scomparsa dopo essere stata caricata in macchina da un cliente era stata ritrovata il giorno dopo in una zona remota di Tampa morta due mesi dopo il 2 maggio un'altra ragazza di 20 anni di nome Neum T. Long una danzatrice esotica che uscita dal suo lavoro mentre camminava verso casa era stata aggredita ed era stata ritrovata anche lei la mattina dopo morta aveva subito violenze e anche lei era stata scomparsa lo stesso mese la polizia trova un altro corpo di una ragazza di 22 anni di nome Michelle Sims anche lei era una prostituta e anche lei era stata uccisa con lo stesso modus operandi delle altre ma in questo caso questa ragazza aveva lottato di conseguenza aveva messo in difficoltà l'aggressore che infatti le aveva anche tagliato la gola cosa che con le altre non aveva mai fatto su tutte le vittime erano state ritrovate delle fibre rosse che sembravano proprio provenire da un tappeto e su quest'ultima vittima proprio perché lei aveva lottato così tanto avevano trovato anche dei capelli dell'aggressore che la vittima era riuscita a strappargli avevano trovato anche del liquido sacro e l'impronta di un piede il mese successivo viene ritrovato un altro corpo di una ragazza di nome Elisabeth Ludenbeck sempre uccisa allo stesso modo ma questa volta l'aggressore aveva rubato la carta di credito alla vittima e l'aveva usata dopo il delitto e aveva prelevato tutti i suoi soldi e questa vittima cattura l'attenzione della polizia perché non era una prostituta come tutte le altre ed era anche stata aggredita in una zona molto ricca della città e oltretutto l'aggressore doveva sapere il PIN della sua carta di credito quindi la polizia ipotizza che forse questa vittima conosceva il suo aggressore scoprono che l'unica persona a conoscere il PIN della sua carta di credito era il suo fidanzato di conseguenza iniziano ad indagare su di lui il suo nome era Brooks McKinney ma quando la polizia lo interroga Brooks risponde che non aveva utilizzato la carta di Elisabeth inoltre aveva un alibi di ferro per quella notte perché infatti si trovava ad una festa e c'erano decine di testimoni che potevano confermare la cosa quindi non poteva essere stato lui tre mesi dopo viene trovata un'altra ragazza la 21enne Vicky Elliot i suoi amici avevano denunciato la scomparsa ma quando la polizia si era recata a casa sua aveva scoperto che aveva acquistato un biglietto aereo per andare a trovare la sua famiglia quindi danno per scontato che fosse semplicemente partita magari senza dirlo a nessuno e che in realtà stesse bene ma il suo corpo verrà invece ritrovato mesi dopo senza vita un mese dopo viene trovato il corpo di un'altra ragazza la 18enne Chanel Devon Williams una prostituta e questa ragazza era stata trattata diversamente dalle altre erano stati più brutali con lei l'aggressore l'aveva picchiata le aveva fatto violenza e le aveva sparato alla testa lo stesso giorno viene trovato il corpo di un'altra ragazza sempre una prostituta Kimberly Hobbs che era stata sempre v****ata e s****ata una settimana dopo viene trovato il corpo di un'altra ragazza ancora di nome Karen Beth dreams friend uccisa come le altre e tre giorni dopo il 3 novembre del 1984 era stato il giorno in cui Lisa McVeigh era stata rapita capite quindi quanto sia incredibile il fatto che Lisa sia riuscita a sopravvivere ad un mostro del genere che aveva fatto del male a così tante ragazze subito prima di lei infatti solo tre giorni dopo dal ritrovamento di Lisa era stato trovato il corpo di un'altra ragazza ancora di nome Virginia Johnson di 18 anni e questa volta questo corpo era stato ritrovato a pezzi una settimana dopo un'altra ragazza viene ritrovata morta la 21enne Kimberly Swan sempre morta per s****amento e a questo punto erano 10 donne tutte trovate morte tutte uccise con lo stesso modus operandi e solo una persona era riuscita a sopravvivere la polizia era certa che tutto ciò fosse stato fatto per mano dello stesso uomo e che quest'ultimo fosse la stessa persona che aveva rapito Lisa anche perché appunto su tutte le vittime erano state ritrovate queste fibre rosse che combaciavano con quello che aveva detto Lisa ovvero che nella macchina di quest'uomo c'erano dei tappetini rossi provano a buttare giù un possibile profilo di quest'uomo secondo le autorità si trattava di un uomo bianco intorno ai 20 anni con una personalità molto mascolina e con un grosso ego da colmare probabilmente divorziato e probabilmente disoccupato e con grandi difficoltà a tenersi un lavoro la polizia inizia ad interrogare le prostitute della zona che erano più che felici di collaborare con la polizia dato che a quanto pare erano il target preferito da quest'uomo volevano di conseguenza che trovassero questo mostro il prima possibile ma nessuno dei loro clienti sembrava essere la persona giusta la polizia però grazie a Lisa aveva il modello e il colore della sua macchina e sapevano anche sempre grazie a Lisa che aveva usato uno sportello bancomat subito prima che la liberasse vi ricordate che si era fermato davanti ad una banca in questo modo finalmente la polizia riesce a risalire ad un nome Bobby Joe Long e guarda un po' quest'uomo guidava proprio una Dodge Magnum marrone la polizia inizia ad indagare su quest'uomo per conoscerlo meglio vedono che Bobby Joe era un uomo di 31 anni che aveva lavorato come tecnico radiologo ma che attualmente però era disoccupato aveva la sindrome di Klinefelter che sarebbe comunque un'anomalia dei cromosomi in cui i bambini maschi nascono con due cromosomi X più un cromosoma Y hanno quindi un cromosoma X in più e questo porta a diversi problemi di salute in alcuni casi si hanno difficoltà dell'apprendimento ansia depressione ma si è anche più esposti a malattie autoimmuni o cardiovascolari inoltre spesso gli uomini con questa malattia diciamo questa sindrome presentano dei tratti diciamo un po' più femminili come per esempio un seno ingrossato e Bobby Joe aveva proprio questa sindrome e oltre questo nella sua vita aveva riportato una serie infinita di ferite alla testa ne abbiamo parlato in tanti altri video ci sono tantissimi seri che da piccoli hanno sbattuto la testa infatti sono in moltissimi a pensare che questa cosa abbia un collegamento col fatto che poi siano diventati quello che sono diventati con questo non voglio dire che se voi avete sbattuto la testa da piccoli allora per forza diventerete un seri chiaramente no mi arrivano sempre commenti quando dico questa cosa del tipo oh mio dio io ho sbattuto la testa da piccolo allora diventerò no c'è da dire anche che queste persone di cui appunto abbiamo parlato anche in altri video spesso e volentieri crescono in famiglie altamente disfunzionali una forte botta alla testa può provocare il cambio della personalità ma ci sono diversi segnali diversi campanelli d'allarme che in questi in questi casi in queste situazioni spesso queste famiglie disfunzionali non si accorgono neanche di questi campanelli d'allarme quindi non intervengono insomma non vi preoccupate se avete sbattuto la testa da piccoli dunque Bobby Joe quando aveva due anni i suoi genitori avevano divorziato e lui era andato a vivere con sua mamma a Miami in Florida a quattro anni aveva rischiato di annegare perché a quanto pare sua madre era impegnata a guardare gli altri uomini sulla spiaggia invece di guardare suo figlio che giocava in acqua che infatti era stato travolto da un'onda ed era rimasto incosciente per qualche tempo l'anno dopo aveva sbattuto la testa cadendo da un'altalena e di nuovo aveva perso i sensi per qualche tempo a sei anni era stato bocciato a scuola chi boccia un bambino di sei anni comunque lo stesso anno qualcuno lo aveva spinto giù dalla sua bicicletta e lo aveva fatto sbattere contro una macchina parcheggiata questa caduta gli aveva provocato un grosso trauma cranico e la perdita di diversi denti a otto anni viene investito da una macchina e di nuovo trauma cranico perde di nuovo i sensi per qualche tempo e solo qualche mese dopo questo incidente finisce di nuovo sotto a una macchina si rompe di nuovo i denti e infatti dopo questo incidente rimarrà con la mascella deformata in modo permanente l'anno dopo cade da cavallo e cade sulla sua testa quindi altro trauma cranico e infatti rimane disorientato e con una forte nausea per diverse settimane dopo l'accaduto l'anno dopo lo so sembra una barzelletta ma non lo è l'anno dopo cade di nuovo e sbatte la testa così forte che avevano dovuto dargli dei punti in tutto ciò era anche bullizzato brutalmente a scuola per via della sua mascella deformata dei denti che dopo i vari incidenti erano rimasti un po' così e per via del suo seno aumentato a causa della sua sindrome cioè gli altri ragazzini lo prendevano in giro per questo bobby joe inizia a diventare sempre più violento e aggressivo con la sua stessa madre aveva iniziato a saltare la scuola e poi a 13 anni aveva fatto una cosa veramente terribile preparatevi perché c'entra un cagnetto e so che state sempre molto male quando parlo di animali e anche io sto molto male ma devo dirlo perché si capisce veramente quanto fosse disturbata questa persona e questi sono proprio i campanelli d'allarme di cui parlavo prima che dovrebbe portare un genitore a prendere questo bambino e portarlo in terapia a 13 anni bobby aveva sparato al suo cane e questo perché sua madre aveva dato da mangiare al cane una bistecca mentre invece a lui aveva dato da mangiare un hamburger bobby era geloso di quello che il cane stava mangiando e di conseguenza gli ha sparato e l'ha ucciso ovviamente sempre intorno ai 13 anni bobby joe si sottopone ad un intervento di chirurgia plastica per rimuovere quel seno in eccesso che aveva così da non farsi prendere più in giro dagli altri ragazzini e sempre intorno a quell'età inizia anche a provarci con le altre ragazzine ma in modo molto violento molto aggressivo una di queste infatti tenta anche di denunciarlo ma per mancanza di prove questa denuncia decade inizia anche a rubare prova a rubare svariate macchine ma senza successo e intorno ai 14 anni incontra una ragazza di nome Cynthia con cui ha il primo rapporto completo a 19 anni entra nell'esercito e a 21 sposa questa ragazza Cynthia e lo stesso anno finisce in un altro brutto incidente in moto che lo costringe a passare diversi mesi ricoverato in ospedale ovviamente che ve lo dico a fare riporta l'ennesimo trauma cranico oltre ad altre ferite varie e durante questi mesi in ospedale la personalità di Bobby Joe cambia ulteriormente e di nuovo si pensa che questo fosse un effetto appunto dell'ennesimo trauma cranico perché improvvisamente il suo desiderio sessuale era cresciuto esponenzialmente costringeva sua moglie Cynthia ad avere rapporti con lui tutte le volte che andava a trovarlo in ospedale e le infermiere riportano che si massacasse tipo 5-6 volte al giorno anche se loro erano nella stanza e questo incidente in moto gli aveva provocato così tanti danni fisici che viene congedato dal servizio militare intorno al 1974 e a quel punto va a vivere insieme a sua moglie Cynthia a questo punto Bobby è disoccupato ha un sacco di tempo libero tra le mani quindi cosa decide di fare? decide di cercare delle donne attraverso degli annunci sul giornale donne che potessero saziare questo suo desiderio incolmabile praticamente rispondeva a questi annunci di donne che magari volevano vendere qualcosa o cercavano lavoro e lui andava a casa di queste donne gli faceva violenza e poi le derubava nel frattempo lui e Cynthia avevano anche avuto dei figli insieme ma Bobby era diventato sempre più violento il suo carattere era andato peggiorando e peggiorando finché un giorno Cynthia aveva deciso di chiedergli il divorzio e anche un'altra donna aveva provato a denunciarlo una di queste donne di questi annunci a cui lui aveva risposto ma sempre per mancanza di prove di nuovo le accuse erano decadute nel 1983 Bobby si trasferisce a Tampa e nel 1984 aveva appunto iniziato ad uccidere tutte le ragazze di cui abbiamo parlato prima e tra l'altro tra il 1983 e il 1984 Bobby aveva conosciuto un'altra donna di nome Elise con cui era stato erano fidanzati lei era molto religiosa e andavano anche in chiesa insieme finché ad un certo punto Bobby aveva scoperto che Elise lo tradiva con un altro uomo e quello aveva ovviamente solo accresciuto l'odio che già aveva verso le donne ma vi ricordate quando aveva detto a Lisa McVeigh che era stato lasciato che qualcuno gli aveva spezzato il cuore ecco si riferiva proprio ad Elise la polizia a questo punto era certa che Bobby Joe Long era proprio l'uomo che stavano cercando un ufficiale riesce a fermarlo per strada perché riconosce la macchina e gli dice semplicemente che c'era stata una rapina e c'era una macchina coinvolta in questa rapina che era molto simile alla sua e quindi aveva bisogno che andasse in centrale solo per lasciare i suoi dati in modo che la polizia potesse escluderlo lui accetta va in centrale prendono tutti i suoi dati gli fanno una foto e poi lo lasciano andare ma da quel momento la polizia inizia a sorvegliarlo chiamano Lisa McVeigh in centrale per mostrargli una serie di persone che potevano essere quel seller tra cui ovviamente la foto di Bobby Joe Long e volevano vedere se Lisa lo avrebbe riconosciuto e appena Lisa vede la foto senza esitazione dice è lui lui è l'uomo che mi ha rapita e se vi ricordate Lisa per tutto il tempo era stata bendata o comunque aveva tenuto gli occhi chiusi ma c'era stata una volta in cui Bobby le aveva permesso di mettergli le mani sul viso e già solo così Lisa aveva come memorizzato il viso di quest'uomo e grazie a questo era riuscita a riconoscere questa foto e non aveva dubbi che fosse lui e infatti era lui la polizia ottiene un mandato per perquisire casa di Bobby Joe in cui infatti trovano le impronte di Lisa su tutta la casa su tutte le superfici del bagno testano anche le fibre rosse che avevano trovato su tutti quei corpi con i tappetini della sua macchina e indovinate un po' combaciavano a questo punto la polizia può finalmente arrestare Bobby Joe Long lo arrestano all'uscita di un cinema per l'uccisione di dieci donne e il rapimento di Lisa McVeigh e una volta arrestato scoprono che Lisa non era stata l'unica a sopravvivere si fanno avanti infatti altre due ragazze pare infatti che tra la prima e la seconda vittima di Bobby avesse puntato anche la pistola alla testa di una ragazza di nome Mary Hicks mentre stava tornando a casa e così facendo l'aveva rapita praticamente costringe la ragazza a farlo salire sulla sua macchina e la costringe a guidare verso una direzione sempre tenendole una pistola puntata alla testa ma questa ragazza era andata a sbattere apposta con la macchina ed era riuscita a scappare e la cosa assurda è che questa ragazza Mary Hicks aveva anche provato a denunciare Bobby Joe ed era riuscita a fargli ottenere tre anni di libertà vigilata quindi lo avevano condannato per il rapimento di Mary Hicks gli avevano dato tre anni di libertà vigilata che non ha mai rispettato e non hanno comunque mai pensato di associare quest'uomo a tutti quegli altri omi di prima che Lisa McVeigh fosse rapita non chiedetemi perché la seconda ragazza che era riuscita a scappare si chiamava Linda Nadal ed era stata aggredita tra la terza e la quarta vittima aveva 33 anni e aveva messo un annuncio sul giornale perché voleva vendere dei mobili che aveva in casa e Bobby aveva risposto a questo annuncio una volta recatosi a casa di questa ragazza Bobby l'aveva violettata come aveva fatto con tantissime altre donne ma per fortuna non l'aveva uccisa Bobby Joe viene arrestato e confessa di aver ucciso almeno otto donne e di averne violettate più di 50 solo in Florida queste 50 donne erano tutte sopravvissute a questo mostro e avevano rischiato davvero una fine peggiore mentre Bobby si trova in prigione scrive una lettera ad un altro detenuto in cui diceva di aver pianificato la sua fuga dalla prigione e il suo piano era quello di uccidere una ragazza appena sarebbe riuscito a fuggire e subito dopo aveva intenzione di togliersi la vita ma questa lettera ovviamente finisce nelle mani della polizia gli viene poi fatta una valutazione psichiatrica e viene fuori che Bobby era un sadico che a causa delle lesioni gravi che aveva riportato alla testa praticamente l'aria del suo cervello che regolava il giudizio e il controllo dell'aggressività era compromessa era danneggiata quindi ovviamente la difesa aveva provato a spingere su questa cosa per giustificare le sue azioni ma al processo Bobby Joe si dichiara colpevole dell'uccisione di 9 delle 10 donne di cui abbiamo parlato prima e viene condannato a 26 ergastoli consecutivi e per la morte di Michelle Sims viene condannato alla sedia elettrica e l'anno dopo confessa anche di aver ucciso quella decima donna che non so perché avesse omesso al processo e addirittura la sua ex moglie Cynthia aveva dichiarato che il più grande rimpianto della sua vita era di non averlo ucciso prima con le sue mani racconta che durante il loro matrimonio Bobby era stato crudele con lei era stato estremamente violento e aveva fatto delle cose terribili e puntualmente si metteva poi a piangere chiedendole perdono e giurandole che non l'avrebbe mai più rifatto e lei si pentiva di non avergli mai sparato in testa perché in quel modo non avrebbe neanche potuto fare del male a così tante ragazze Lisa dopo questa esperienza ha finalmente avuto il coraggio anche di denunciare sua nonna e il compagno di sua nonna ed è stata fortunatamente tolta da quella casa e affidata finalmente ad una famiglia decente e nel 2005 a 38 anni Lisa McVeigh diventa un'agente di polizia racconta che quell'esperienza aveva fatto nascere in lei la voglia di proteggere chi come lei a 17 anni si sentiva perso e senza speranze racconta che lei oggi non si sente più persa che tutto ha preso senso che si sente in cima alla montagna che aveva dovuto scalare per tutta la vita e che quella era la sensazione più bella del mondo ovviamente Lisa lotta tutti i giorni a causa del suo vissuto traumatico perché chiaramente il processo di guarigione non è una magia non si guarisce da un giorno all'altro Lisa soffre ancora oggi di ansia ha problemi a dormire racconta che ancora oggi si sveglia ogni notte all'ora del suo rapimento ma nonostante tutte le sfide che deve affrontare oggi e che forse dovrà affrontare per tutta la vita almeno oggi è consapevole è padrona della sua vita è grata per quello che ha e per quello che è e in un certo senso è anche grata per quello che lei è successo perché le ha letteralmente salvato la vita è grata del fatto che Bobby Joe abbia scelto proprio lei e non un'altra diciassettenne perché forse un'altra diciassettenne non avrebbe saputo come affrontare quella situazione invece purtroppo o per fortuna lei lo sapeva grazie al suo passato di violenze era riuscita ad affrontare quella situazione ed era riuscita a sopravvivere dice anche di aver perdonato Bobby per quello che le ha fatto perché racconta che il non perdonarlo le avrebbe causato più sofferenza e l'avrebbe messa in una prigione che lei non meritava Lisa racconta di meritare di sentirsi libera e perdonare Bobby l'ha resa libera e il 23 maggio del 2019 Bobby Joe è stato giustiziato sulla sedia elettrica dopo aver mangiato il suo ultimo pasto che se volete saperlo non so io sono sempre curiosa di sapere gli ultimi pasti dei detenuti è stato carne di manzo arrosto bacon patatine fritte e soda e Lisa era presente durante l'esecuzione e ha pianto e racconta che non ha pianto tanto perché le dispiaceva ma perché dice che è stato come se un pezzo di lei fosse venuto via ed è stato in qualche modo doloroso questi amici sono tutte le informazioni che ho su questo caso fatemi sapere se lo conoscevate già cosa ne pensate se anche a voi ha fatto piangere come ha fatto piangere me non so se mi sono trattenuta abbastanza se ce l'ho fatta è una storia veramente incredibile davvero me l'avete consigliata e io non la conoscevo la conoscevo a grandi linee conoscevo il nome di lui però non sapevo nei dettagli tutta questa storia di Lisa McVeigh che è davvero assurda e bella in un certo senso ci sono dei video su youtube li trovate facilmente di lei che racconta questa esperienza ed è davvero una donna da cui prendere ispirazione grazie per aver passato anche oggi il vostro tempo con me e ci vediamo al prossimo video come sempre ciao ciao